Amici di Che fine ha fatto? Torniamo con un nuovo appuntamento dedicato al Cino Alvaro Recova, il fantasista che nell'Inter tra il 2001 e il 2003 fu il calciatore più pagato al mondo. Altri tempi per la Serie A e per i nerazzurri di Massimo Moratti che venerava in un certo senso il Cino perché era un po' il suo feticcio. In realtà poi con l'Inter ebbe fortuna al terra e tanto che passò in prestito al Venezia con il quale realizzò proprio un gol contro l'Inter e in generale la carriera fu illuminata da una tecnica e un estero fuori dal comune ma da tanti alti e bassi da segnalare le esperienze con il Torino, con il Panionios e poi il fatto che è diventato una bandiera del nazionale con il quale ha concluso la carriera e del quale adesso è il tecnico delle riserve con la speranza poi di diventare il numero uno in generale. Ma che fine ha fatto? Ha partecipato al programma di Master Chief in Uruguay distinguendosi per l'ottima capacità di produrre tramezzini davvero stiziosi.